Perché abbiamo sentito il bisogno di una nuova e ulteriore edizione dello Zibaldone? Perché ci siamo casualmente scontrate e incontrate con la tecnologia informatica e questa ci è sembrata una sfida molto interessante da poter applicare a una edizione critica dello Zibaldone di Leopardi. Il testo elettronico e il testo a stampa sono due strumenti informativi totalmente diversi. Peruzzi ha pensato di poter fare un'edizione critica soltanto con la fotografia. Noi abbiamo voluto inserire nella nostra edizione critica il manoscritto perché lo riteniamo una parte essenziale. L'edizione mostra sia la nostra lettura e sia la possibilità di verificare sul manoscritto. Quindi ad ogni pagina dello Zibaldone c'è la possibilità di aprire il manoscritto. Il manoscritto è anche importantissimo per vedere il pensiero di Leopardi mentre si sviluppa. Io credo che lo Zibaldone rappresenti non solo il laboratorio del suo pensiero ma anche il laboratorio della sua lingua. Leopardi ha dato una prosa letteraria nelle operette morali. Ma lo Zibaldone credo che sia una lingua alta ma la ricerca di una lingua nazionale. Cioè Leopardi pensava che la lingua italiana era una lingua importantissima che aveva una storia letteraria, scientifica alta, era una lingua flessibile, ricchissima ma doveva essere semanticamente rinnovata, doveva essere resa moderna. Cioè quella lingua antica andava come riportata nei tempi moderni. Lo Zibaldone nasce nel 1817 e si apre non a caso con alcuni versi in cui si parla di un viandante, di un passeggere solitario che cammina nella notte al chiarore della luna. Il 19enne Leopardi dunque si vede un po' come un viandante, come un pellegrino errante. Queste sono tre parole che gli sono molto care. Ed è la stessa figura che si incarnerà poi oltre dieci anni dopo nel pastore. Leopardi ha però poi finito per lasciare lo Zibaldone così com'era. Non è mai arrivato a diventare un pensatore sistematico ed è proprio in questo la sua forza. La modernità dello Zibaldone, possiamo dire, è nella sua natura frammentaria. Solo dopo di lui la filosofia moderna ha imboccato questa stessa strada. Pensiamo a Nietzsche, per esempio, e poi ancora più novecenteschi, Benjamin, Adorno, Simone Weil, Gramsci, eccetera. Quasi tutti, direi, i grandi filosofi moderni hanno lasciato opere frammentari, opere in frammenti. Certo, non è possibile leggerlo come un'opera, perché è piuttosto una rete, una rete di percorsi in tutti i campi del sapere. Leopardi, come gli antichi, non amava la specializzazione disciplinare e anche noi, ora postmoderni, stiamo tornando a intrecciare, ad attraversare tutte le discipline. Per esempio, in una lunghissima riflessione, che è forse il primo trattatello sulla globalizzazione, potremmo chiamarlo, si serve di considerazioni storiche, geografiche, psicologiche, linguistiche, per dimostrare una tesi forte, cioè che il mondo moderno sta andando verso una sempre maggiore uniformità, sta diventando sempre più uniforme, distruggendo ogni tipo di varietà, di differenziazione. E ora basta viaggiare un po' per rendersene conto, ma Leopardi lo aveva già capito viaggiando con la mente. Certo, la lettura discontinua è molto affascinante, ha un testo divertente, proprio per la sua frammentarietà. Si potrebbe addirittura usare, leggere come coffee table book, cioè uno di quei libri che leggiamo nei momenti di svago, trovando ad ogni pagina cose divertenti e sorprendenti. D'altra parte è pure vero che lo zibaldone racconta a suo modo una storia, anche se in modo frammentario, la storia di come l'animale uomo si è sviluppato diventando civile, diversificandosi, trasformandosi da com'era in origine. Il grande tema dello zibaldone è in fondo il destino della specie umana, il suo allontanamento, il suo esilio, potremmo dire, dal mondo naturale. Di qui l'importanza della lingua, del tema della lingua, che è lo strumento principale di questo percorso. E ciò che interessa di più Leopardi in questa storia è quel che l'animale uomo ha perso, perfezionandosi, cioè diventando razionale, diventando civile, eccessivamente civilizzato, come dice lui. E cosa ha perso? La semplicità, la spontaneità, la possibilità di una ingenua felicità e soprattutto la poesia. Forse questo successo nell'area più tecnologica, più avanzata, più civilizzata, tra virgolette, del mondo, non è un caso. Le riflessioni, le domande di Leopardi sul percorso della civiltà possono essere forse capite meglio in questo momento di crisi, cioè quando la civiltà umana si sente forse in pericolo di sopravvivenza, costretta a interrogarsi sul proprio destino. Dove stiamo andando? Cosa stiamo perdendo? Che è una delle domande fondamentali di Leopardi. Leopardi, si potrebbe dire, è un pensatore ecologico e anticipa, vede l'uomo collocato in un più vasto contesto che è quello prima del pianeta e poi dell'universo. E quindi si fa domande su questo sviluppo, su dove ci porta e anticipa in fondo l'idea della decrescita, di Latouche, no? O l'idea della sostenibilità, che è parola che va adesso tanto di moda. Per questo, tra le presentazioni che sono state fatte in tutto il mondo del libro, in inglese, forse quella più interessante è stata quella in India, a Nuova Delhi. Un paese enorme che sta scegliendo in qualche modo il percorso che noi abbiamo scelto molto tempo fa, quello di uno sviluppo accelerato e quindi si sta intelligentemente facendo domande su questo percorso.